Il progetto nasce da uno staff che crede molto nel suo operato, uno staff che da tre anni porta avanti un'associazione a cui è legata una rivista, un mensile, Latina per strada. Proprio da me e da Andrea è nata l'idea di dare un nuovo volto a questa struttura. Da un anno è diventata la nuova sede degli esercenti del vecchio mercato annonario. I writers sono sei, sono stati selezionati da me che ho coordinato il gruppo dei senior dei 13 pittori che si occuperanno della decorazione interna del mercato. Dunque, il tema principale di tutta l'opera si basa su due temi, quindi sulla bonifica e sul mercato, proprio perché si richiama al discorso del mercato annonario. La bonifica perché è il luogo in cui ci troviamo, quindi unire i due temi all'interno di tutto il disegno, nello sviluppo di tutto quanto il muro. All'incirca abbiamo utilizzato per questo, per quest'opera sono state impiegate 200 spray. All'incirca abbiamo utilizzato per questo, per quest'opera sono state impiegate 200 spray. All'incirca abbiamo utilizzato per questo, per quest'opera sono state impiegate 200 spray. All'incirca abbiamo utilizzato per questo, per quest'opera sono state impiegate 200 spray.